vai avanti dovrei far dietro perché se vedevo riprende ciao amore io vado di là noi di là voi di qua ciao così va bene io non ho capito capito si anche io avrei bisogno della mano bambine allora dobbiamo fare quattro persone a sinistra e tre a destra dai nicolas io pure c'è un po' aspetta posso mi serve una mano perché non c'ho molto equilibrio aiuto mi dai un attimo una mano ok 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 ce l'ho fatto opla la mia bagaglia rossa i piedi dentro qua ciao nicolas ciao abbassa un po' la destra allora ragazzi guardiamo tutti qua che vuoi fare una bella foto filippo si fa un po' la destra allora questi piedi dobbiamo mettere i guardi sì abbiamo letto aspettare aspettate oi che aspettate mi chiesto a venire ehi ma qui hai infilato i piedi sì ma qui hai infilato i piedi buon giorno a tutti buon giorno a tutti mi chiamo Alessandro Da quello che ho capito non è la prima volta che venite, vabbè io è la prima volta, l'ho fatto 20 anni fa, allora perfetto, perfetto, quindi voi ve li ricordate i comandi, le cose, tutto quanto, avanti indietro e stop, nome? Fabiana, allora Fabiana, tu è la prima volta, sei seduta a destra, io invece sono seduta più dietro e ti darò la direzione al gommone, quindi non ti devi preoccupare di dove andrà, ma tu sarai il mio motore insieme a tutti gli altri, con la pagaia e tre comandi che do io con la voce, questa è sulla destra, quindi la mano sinistra è su, pollice e palmo e la destra è giù, in questo modo, bravissimo, ora quando dico tutti avanti, tu prendi l'acqua dalla punta del gommone e la devi verso l'acqua, se dico indietro invece, faccio al contrario, e se dico stop, tiri fuori la pagaia dall'acqua e la poggi sulle cammini, in questo modo, ora, le regole della sicurezza sono due essenzialmente, il piede, sempre sotto le fasce, se vuoi andare a finire in acqua, li togli, no no, preferisco andare, la mano sopra della pagaia invece, se riesci, intanto la apri, ma non la togli mai, perché se la levi, questa è libera, può essere che sfugge, ok, gli ostacoli, visto che c'è pure la controva, presta attenzione, gli ostacoli, ragazzi, voi abbassate la testa, ok, invece tu cerca di schivarli perché si abbassino, se prendi le borse sulle camere, ok, mi potresti dare, mi dici, un avvertimento, quando... intanto, te li vedi arrivare, ah, vedo loro, sì, sì, te li vedi arrivare, ma ci stanno, per i primi 100 metri, poi sparisco, ok, perfetto, qualche rametto giù ci starà, però, là puoi abbassare la testa bene, poi invece, siccome sono lunghi, abbassare la testa, non ti aiuta, così, no, quindi devo... magari sì, sì, se non stiamo attenti, se non stiamo attenti, ok, allora ragazzi, visto che siamo pronti, io direi di sganciarmi, ci facciamo un giretto, scusami, Fabiana, Fabiana, almeno si scalda bene le braccia, prova i comandi, ok? ok, grazie, non è che qua, noi, arriviamo secondi, no, dove facciamo, perché non fa? ha, ha, ha! qua siamo gattini! no, potremmo... no, no, vediamo così! ma facciamo, costranno! vediamo chiaro, poi non faccio in mano, scientistia, ci siamo arrivati per il suo cibo? papi, tenitelo su, e lo chiamo e lo fanno 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 perché ci hanno detto lui prima gli uomini va bambini e poi le donne e lo fanno 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 bambini allora ragazzi molto molto bene siamo specialmente sganciati quindi stop è così eh? si ci è ditate su a un po' che c'è dai 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 tutti indietro ragazzi tutti indietro stop stop ragazzi di nuovo indietro vai 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 di nuovo indietro stop e tutti avanti adesso no quello è indietro aspetta ah avanti stop guarda il polso sotto così per un po' ti fai i malissimo così oddio scissami ancora avanti vai omo passano questi eh vedete un po' di schizzagli eh aspettiamo fa schizzategli dopo io gli ho detto no ci devo schizzar dopo tu già mi dici stop eh sì eh oh ma io se schizzagli io se schizzagli non arrivo eh eh molto bene ragazzi così mi piacete così via allora appena sono pronti tu la pira no questi no stanno i bimbi che devo fare? no loro no stop stop vabbè questi che gli vuoi fare oh boni boni allora di nuovo indietro vai di nuovo indietro attenzione Fabiana al polso allora tutti indietro tutti indietro tutti indietro ma quali sono i nostri questi? tutti avanti i pali i pali tutti indietro ragazzi ancora avanti così vai che facciamo la prima cascata stop vabbè magari è fuori dall'acqua vabbè ancora avanti ancora avanti aspetta qui ci sono le rocce rocce oh dove devi arrivare indietro tutti indietro poi da quanti siete i pali che stanno? bello no adesso non è no stop 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 ragazzi stop i bagagli sono fuori dall'acqua fuori fuori ok bravo pronti tutti indietro ancora indietro indietro ma guardate ma guardate lo stanno ma guardate lo stanno sanno passi apposta addivideci ancora avanti vai 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 ragazzi un po' di energia stanno passi apposta stop wow 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 ancora avanti vai insieme insieme forza vai bentornosio un po' più di acqua c'è rispetto all'anno scorso anche agli anni passati ha nevicato parecchio st'inverno quindi stop ha nevicato molto e quindi riusciamo ad avere un ottimo livello d'acqua ancora avanti ancora avanti ragazzi insieme avanti tutti sono le mascherine che ci hanno fatto diventare assurdo sono lì davanti a questi ma a me dovremmo recuperare quelli avanti stiamo a semina panica e terrore chi era il terrore? eri tu in terrore? ah ok ecco appunto l'altro era panico? tutti avanti vai guarda che sono quelle sono troppo ampia e ancora avanti vai ragazzi ok stop è così poi andiamo a recuperare eh sì dobbiamo fare una guerra con loro se no ti preoccupare che ci procediamo ora è anche bello vedere il paesale eh infatti sì è bellissimo ci stanno aspettando ci stanno aspettando ci stanno aspettando ma come...quanti gradi fa l'acqua? ora vediamo la porta tutti avanti il stop è così molto molto bene ormai vanno già spiegato tutto quanti gradi è l'acqua? 8 gradi non è proprio caldissimo no ancora avanti avanti stop indietro 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 stop indietro un po' d'acqua ma si tutti avanti andiamo ci stanno aspettando ci stanno aspettando ecco ecco stanno aspettando stai calmo ancora non c'entrano niente buoni state buoni state buoni stanno aspettando stanno aspettando stanno aspettando ok no sono proprio stanno aspettando cosa mi sento più prezzo vero ma ci stanno aspettando ci siamo messi mantieni la posizione ma lasciaci su la sponda diremmi i pesce quando stanno pure gli sassi, guarda, mi tiriamo pure lì bene, sì, sì, stop, è così ancora avanti, vai ragazzi, ancora avanti il paesaggio non è in tasca, non c'è più acqua c'è più acqua, sì, sì, molta più acqua a luglio dell'anno scorso stavamo... non stavamo messa male? ecco, un po' di cinque minuti no, no, oggi è prima